TG Melito La Commissione nel corso della verifica è emerso che alla data del 29 ottobre, quindi la data dell'insediamento di Falcomatà, la disponibilità liquida del Comune ammonta a 31 milioni di euro senza utilizzo di anticipazioni di tesoreria. La situazione finanziaria comunica la Commissione quindi ben diversa da quella trovata dalla Commissione al momento del suo insediamento, situazione nel quale si registrava invece un deficit di cassa di circa 30 milioni. Secondo quanto comunicato dalla Commissione quindi nei due anni di permanenza a Reggio le casse comunali sono state risanate di oltre 60 milioni di euro. La verifica in ogni caso prosegue e l'esito finale verrà comunicato la prossima settimana quando ci sarà il passaggio ufficiale delle consegne da parte della Commissione, quindi la firma del contestuale del nuovo sindaco. E adesso parliamo sempre di comuni, di municipi ma di comuni sciolti in questo caso ed è quello di San Ferdinando, è stato sciolto il Consiglio Comunale, la decisione presa dal Consiglio dei Ministri, lo ha reso noto infatti il Ministro per gli Affari Regionali, Maria Carmela Lanzetta. A Roma dove poco dopo il Consiglio dei Ministri ha partecipato ad un convegno sulla corruzione, il prefetto di Reggio Calabria Claudio San Martino ha nominato il commissario prefettizio. Come vi ricorderete il 14 ottobre scorso il sindaco di San Ferdinando Domenico Madaffari era stato fermato per concorso esterno in associazione mafiosa nell'operazione contro la cosca a Bellocco. Secondo quanto si apprese avrebbe favorito il rilascio di licenze ed autorizzazioni per negozi nella disponibilità della cosca. E adesso ci spostiamo nella Locride perché a Bovalino i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto un uomo di 50 anni originario di San Luca, responsabile di riciclaggio e violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo dopo aver omesso di fermarsi al posto di blocco e imposto dai militari si è dato alla fuga alla guida di un autocarro fino a quando dopo essersi impantanato in un oliveto e fuggito a piedi, venendo raggiunto poco dopo dai militari i quali sono riusciti a bloccarlo e poi trarlo in arresto. Dopo una breve colluttazione nel corso della quale uno dei militari è rimasto leggermente ferito dai tentativi dell'uomo di divincolarsi, l'immediata perquisizione dell'autocarro ha consentito di rinvenire all'interno dello stesso diverse parti di varie autovetture con la matricola punzonata sul conto delle quali sono stati avviati opportuni accertamenti al fine di verificarne la provenienza e quindi risalire ai reali proprietari. E' quella del reato di riciclaggio, un'ipotesi di delitto sanzionata in maniera molto severa dal codice penale, infatti essa punisce con la reclusione dai 4 ai 12 anni e con la multa da 1000 a circa 15.000 euro. Nell'udienza di convalida odierna il giudice per le indagini preliminari nel convalidare l'arresto ha disposto nei confronti dell'uomo di 50 anni, come dicevamo, originario di San Luca, la misura cautelare degli arresti domiciliari. E torniamo a Reggio Calabria adesso, perché nel primo pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha proceduto all'arresto, inferianza di reato, del reato, scusate, di detenzione e porto abusivo di arma da fuoco e minacce gravi un pregiudicato regino di 61 anni che dopo una violenta lite avvenuta all'interno di un esercizio commerciale sito nella zona sud di questo centro aveva minacciato di morte il titolare e tentato di dare effettivamente seguito all'intimidazione altre volte fino al punto di rientrare presso la propria abitazione in possessarsi dell'arma detenuta ed affrontarlo poi nuovamente. Il commerciante, nonostante il comprensibile stato di agitazione, è riuscito a segnalare prontamente la vicenda alla sala operativa della Questura e fornendo altresì il numero di targa dell'aggressore ha consentito agli agenti di individuare il malfattore e di impedire che lo raggiungesse poi in negozio. A seguito di una perquisizione personale l'arrestato è stato trovato in possesso di una pistola calibro 6,35 completa di caricatore rifornito con 7 proiettili e quindi poi pronta all'uso. La persona è stata dunque tratta in arresto e posta a disposizione dell'autorità giudiziaria che convalidato il provvedimento restrittivo ha disposto che lo stesso venisse ristretto in regime di detenzione domiciliare. E adesso parliamo di lavoro, parliamo di economia perché la CGL calabrese annuncia iniziative di mobilitazione in tutta la regione Calabria per il 7 novembre prossimo, giorno in cui è previsto l'arrivo del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Le ragioni della protesta sono riportate in una lettera indirizzata dalla segreteria regionale del sindacato ai parlamentari e nel mirino del sindacato soprattutto il PD, infatti il partito del quale il Premier è il segretario e questo è quello che scrivono. Il governo Renzi sta penalizzando la Calabria con le sue scelte sia nei provvedimenti del Jobs Act e sia nella legge di stabilità. E quindi 7 novembre prossimo, mobilitazione in tutta la Calabria del sindacato più grande d'Italia, la CGL. Voltiamo pagina adesso, ci spostiamo al nord, direte perché? C'è ovviamente un'affiliazione di questa notizia con la nostra regione. Infatti Isabella Votino, portavoce del governatore Lombardo Roberto Maroni, sarebbe stata intercettata dai magistrati della procura antimafia di Reggio Calabria e a rivelarlo è il settimanale L'Espresso, oggi in edicola. La Votino è finita nell'inchiesta sul lato oscuro della Lega, l'intreccio tra professionisti calabresi e politici del partito che secondo i magistrati avrebbero riciclato sia i fondi del Movimento Padano che quelli dell'Andrangheta, in particolare della potente famiglia De Stefano che da vent'anni domina a Reggio Calabria. I contatti della Votino con alcuni di questi indagati, forse a sua insaputa, hanno fatto scattare quindi l'iniziativa dei PM antimafia. Dalle intercettazioni emergono inoltre contatti della Votino con investigatori milanesi per tentare di ottenere informazioni su inchieste in corso che potrebbero interessare persone vicine alla Lega ed a Roberto Maroni. Ed emerge anche il suo peso nel tessere relazioni politiche con esponenti di primo piano del centrodestra. Oltre alla Votino è finito intercettato anche un altro uomo, sempre di Roberto Maroni, l'avvocato Domenico Aiello, legale del governatore Lombardo. Ieri è arrivata la dichiarazione della Votino che risponde all'accusa e dice L'Espresso diffonde volgari insinuazioni con l'intento di colpire gli avversari politici. Visto però che il mio nome viene affiancato a un'inchiesta su un dranghe terriciclaggio che non mi vede in alcun modo coinvolta ed essendo in questo altamente infamante per la mia onorabilità e professionalità, ho dato mandato al mio legale di presentare querela per diffamazione aggravata. Se fosse vero poi che sarei stata intercettata per così tanto tempo dalla Procura di Reggio Calabria, tanto meglio perché risulterà evidente l'assoluta correttezza del mio comportamento. In tutti questi anni continua non ho fatto altro che svolgere il mio lavoro con la dedizione e la professionalità che persino l'articolo dell'Espresso non ha potuto fare, a meno di riconoscere. E concludiamo il nostro telegiornale con una breve, una breve che ci riguarda molto da vicino perché proprio accade nell'area grecanica. Bene, dopo tanto lavoro arrivano i premi e stiamo parlando di un premio dato dal Rotary Club Reggio Calabria Est, il premio Rotary alla professionalità e all'artigianato. Nel corso della serata di oggi, la speranza della grande bellezza, premio che viene consegnato a Salvatore Clemenzi, giovane parrucchiere e giovane acconciatore di Bova Marina. Sin da ragazzino ha preso l'arte di creare bellezza dal padre e subito si è inserito nel jet set che conta nel suo ricco curriculum professionale. Si annotano produzioni e creazioni a personaggi famosi, ma anche a donne della porta accanto. In questo equilibrio è la vera essenza della sua fama, non esiste differenza quando ha davanti i capelli di una donna. Per Salvatore sono tutte uguali e tutte meritano rispetto. Attenzione e cure è stato acconciatore al Festival di Sanremo, è stato acconciatore per Adriano Celentano, al Festival di Castrocara, Mezzogiorno in Famiglia, La Vita in Diretta, Linea Verde, Miss Italia, Miss Italia nel mondo, i Telegatti, l'anno che verrà, il programma che va in onda a Capodanno, anzi il 31 dicembre, la notte del 31 dicembre, su Rai 1, Mistero, X Factor. Questi sono solamente alcuni dei nomi dei programmi televisivi molto noti a cui lui ha potuto partecipare come acconciatore, dove appunto Salvatore Clemenzi ha curato lo stile e le acconciature dei personaggi famosi, per citarne qualcuno, anche la più grande cantante italiana, Laura Pausini. Bene, con questa notizia noi concludiamo il nostro, telegiornale, vi ringraziamo come sempre per averci preferito e vi ricordiamo che le repliche delle nostre news e della nostra programmazione la potete trovare on demand, online in forma totalmente gratuita, sui nostri canali YouTube e sulla nostra pagina Facebook. Grazie ancora e arrivederci. Grazie. 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 Grazie.